Ciao ragazzi, io sono Fablinker e oggi siamo qui su Football Manager 2022 con la nostra Fiorentina. Un ragazzo mi ha dato un consiglio molto molto buono. Allora, intanto, mi ha detto di vendere alcuni giocatori e spostare tutto sugli ingaggi, ok? Allora, allora, per poter comprare dei giocatori in scadenza, quindi rosa, io vorrei vendere Cadeon, ma non lo vuoi neanche su madre. Trasferimenti, offri ad altre squadre a 600.000 euro. Offriamo. Poi, giocatori che non giocano. Vediamo subito chi potremmo vendere. Perché qua, Benassi, altro giocatore che non gioca, offri ad altre squadre, ok, poi, 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 poi. Purtroppo per il resto però non riesco a fare nulla. Allora, 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 stavo pensando, ricerca giocatori. Scadenza contratto. Facciamo così. Ma non ci sono più? Scusate, eh. Che fine hanno fatto? Che fine hanno fatto? Che fine hanno fatto? Ah, ecco. Allora, Bernardeschi. Contata per ingaggio? Ah. Perché c'è stata una rottura? Beh, Dennis Mann, però, sinceramente. No, io vorrei... Volevo... Io... Lo volevo a fine anno. Eh, però, non è in scadenza, scusate. L'ho detto una... Una castroneria. Tolissone, anche lui, eh. Vuole riprendere i contatti, immagino. Credo. Tolissò vuole riprendere il contratto. Ragazzi. Ragazzi, 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 ragazzi. Però non si può prendere a fine anno? Scusate, eh. No? Non è in scadenza? Allora, hanno accettato 11 milioni per Tolissò, che secondo me sarebbe un'ottima cosa. Andiamo alla partita al momento, poi dopo ci guardiamo meglio per il mercato. Allora, Barco oggi debutta, sono molto curioso, con lo Spezia, derby, derby, no? Spezia sta in Toscana, o dico una castroneria, sì, dovrebbe essere. Un derby... No, scusate, ma adesso sono curioso, un attimo, che non voglio fare una figura di merda colossale. Ehm... Spezia. Ma quale derby, no? Spezia sta in Liguria. Ora mi è avuto in mente, perché non l'ho ancora visto, in realtà. Ehm... Visualizza altro... Sì, però io vorrei capire dove sta. Addio. Un attimo, ragazzi. Però penso che sia dopo il Liguria, eh. Sì, allora... Città, la Spezia... Non me lo dice. Però dovrebbe essere il Liguria. Sì, sì, è il Liguria, è il Liguria. Ho detto una stronzata colossale. Bene, un buon inizio per me, che dico subito stupidate in modo schifoso. Bene, ragazzi, devo dire che sono in grande forma oggi. Ragazzi, incoraggia la squadra, partiamo subito forti? Vi prego, oggi debutta Barco. Voglio vedere come... Come si comporta questo... Questo ragazzo, che a me, sinceramente, ha fatto un'ottima impressione. Poi, non lo so, magari... Barco subito in venta, intanto, eh. Giusto per... Viraghi. Torrera. Dai, 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 dai. 1-0. Autogol. Ma veramente? Del difensore? Lo voglio rivedere, assolutamente. Me lo sono perso, questo autogol colossale. Mamma mia, in maniera anche abbastanza così, rivedibile. Ma com'è possibile? Vabbè. Comunque, comunque, 1-0. Si parte molto bene dopo 7 minuti. La squadra comunque quest'anno c'è, eh. La squadra c'è. Non... Non si può di nulla, eh. La squadra è molto buona. È molto bravo. Torreira. È molto buona la squadra. Ah, Barco aveva già inventato un buon pallone per Vlaovic, che poi era un po' una via di mezzo, perché c'era sia Vlaovic che buona avventura lì. Eh, lo diamo a una squadra che è partita molto, ma molto bene. Quindi lo darla, direi che ci può stare, assolutamente. Però io vorrei chiuderla in un qualche modo. Vorrei attaccare di più. Loro hanno fatto ancora 0 di rimporta. Noi 6. Diciamo che stiamo un po' dominando la partita. 7-0, però solo 1-0 grazie a un autogol rivedibile. Ultima azione, prima dello scadere del tempo. Ultima azione. Comunque questo barco non sembra per niente male, eh, ragazzi. Gonzales. Gonzales. 2-0. Tredicesima rete in campionato per questo esterno. Molto promettente. Molto, molto. Oh, 2-0. Primo tempo. Diciamo che è peggiore Vlaovic al momento, però. Adesso, con tutto il bene. Che ci potrei mettere a posto di Vlaovic? Mi serve una punta. È vero, non c'ho una punta di riserva, ragazzi. Mi sono dimenticato. Non c'ho una punta di riserva, eh. Se si fa male a Vlaovic, noi stiamo nella... Nella... Nella merda fino al collo. Vabbè che c'è Gonzales che può fare la punta... Nel caso peggiore. Però, insomma. Menti caso che capita con Zales fuori, Vlaovic fuori. Io mi... Mi metto a pregà. Perché qua... Non c'è altro modo. Biraghi. Barco! Al debutto! Ezequiel, barco! Oh, un barco si è presentato così. Con calma, delicatezza. Mi fomenta questo barco a me, eh. Mi fomenta tanto. Tanto, tanto. Raga, un po' di turnover. Che non si può. Gonzales è anche ammunito. Gonzales, ti prego. Non fatti butta fuori. Barco, assolutamente mettiamo Saponara. Castrovilli. Ci mettiamo Pulgar. No, 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 no. Vlaovic. Vlaovic, potremmo metterci Alende. Anche se non c'entra una fava. Però io non vorrei farlo stancare troppo. E Milenkovic, che è il nostro perno. Ci metterei Martinez quarta. E poi direi che i cambi sono finiti, eh. Un po' di turnover ci sta a tutto, ragazzi. Arrivati a questo punto sul 3-0 al sessantesimo. Io penso che non ci dovrebbero essere grandi problemi. Ecco, bene. Mamma mia. Che rischio. Questo è stato un rischio abbastanza evitabile. La Juventus pareggia e Napoli pareggia. Bene, bene, bene. Sarebbero tre punti fondamentali questi, eh. Fondamentali, ragazzi. Fondamentali. 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 Tre punti fondamentali. Siamo quarti. Sempre lì. Ha quattro punti dal primo posto. Comunque, eh. Ridendo e scherzando. Stiamo staccando tra la Lazio di tre punti. Però non ha... Ah, ecco. Eren è in scadenza, Tolisso. Solo che ha firmato un nuovo contratto. Con il Bayern. Barco in gol ha devuto. Bene. Biraghi in evidenza, come sempre. Biraghi in stagione fenomenale. Fenomenale. Vogliamo dirlo? Allora. Caleion. Nessuno vuole prendere Caleion. Offre altre squadre. Ma se lo... Ma se ve lo do a... A 300.000 euro. Raga, c'ha... C'ha... C'ha un ingaggio troppo elevato. C'ha un ingaggio troppo elevato. Eh. Allora. Offre le altre squadre. Facciamo... Facciamo... Vale un milione e tre. Facciamo un milione. Aspetta, eh. Gli stasferimenti. Prendi di stipendio di milioni per non giocare. Fiorini. Non male sto fiorini, eh. Non male. Modifica budget. Raga. 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 Jeremy Boga. Ragazzi, Boga. No, vabbè. Questo è un acquisto... È un acquisto incredibile, ragazzi. Questo è un acquisto incredibile. Giocatore di spicco. Può diventare. Questo è un acquisto incredibile. Benassi. Perché me le rifiuti? Ma fammeli vedere a me o no? Perché non me le fai vedere? Ma chi se ne frega la tua valutazione del giocatore? Ma posso fare io? Posso fare io? Come si fa? Come si fa? Come si fa? No. Come si fa? Niente. Aspetta. Responsabilità. Ok. È la prima squadra. Osservatore e allenatore. Allenatore, allenatore, allenatore. Non so cosa fare. Sono tutto io. A parte gli allenamenti e... E basta. E reclutando staff. Il resto faccio tutto io. Boh. Non lo so, non lo so. Siamo contro il Cagliari, che sta ultimo in classifica. Cagliari, che sta trasferimenti. Il Cagliari ha offerto un contratto a Chiesa delle Mura. No. Oh, 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 raga. Un attimo, un attimo, un attimo. Eh, però io l'offerta l'ho fatta per il contratto. Il Torino ha offerto un contratto. A Saponara. No. Rinnova a Saponara. A me non lo vendo, scusate, eh. Con tutto il bene. No, 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 no. Ho fatto una cagata. Ehm. Come si fa ora? Come si fa? Aiuto. Non volevo. Anzi, ti rinnovo io. Ah, porca trota. Come si fa a cavarlo? Io non posso perderlo gratis. Saponara a fine anno. Cioè, non sto giocando neanche male quest'anno. Aspetta. Succedibile. Ma io non voglio. Non so come fare a cambiare questa cosa. Ma che cavolo? Cos'è acquista contratto a vita? Che è sta roba? Sì, un euro. Ma che è? Non so come cavarlo da qua. No, vabbè, raga. Non posso perderlo. Ma perché? Ma perché? Ma perché è una partita Bejer... Bejerki, Steyn, Bejerkson. Osserva, osserva, osserva. Punti di forza. Punti deboli del... Beh, sarebbe un acquisto utile per il futuro. Sì, però... Seguiamolo, seguiamolo, seguiamolo. Però non sembra sta gran cosa, eh. Nel Frentina è favorita. Tre giocatori sono andati orgogliosi. Kimi Lenkovi, Gianni Alvece addirittura. Poi... Biraghi... Perché Biraghi no e Barconò e neanche Taragoschi? Sono dei complimenti. No, non... Io non volevo perdere il saponare gratis, però. Con tutto è bene, eh, però. Allora, ragazzi. Noi abbiamo... Boga fa l'esterno, sì. Noi abbiamo un urgente... Urgentissimo bisogno. Ma poi non c'è qua nella lista cedibili. Dove sta? Dove sta? Vabbè. Allora, allora. Costo futuro opzionale per 40 milioni. Si può? In un futuro? Ah, loro potranno... Potranno comprarlo. Però voglio ricappi una cosa. Allora. No, ho sbagliato. Ho sbagliato. Osservatori. Cerca giocatori. Ehm... Tiamo in lista per trasferimento. Ho sbagliato. Allora. Dov'è la posizione? Punta. C'è un Belotti selvatico a 11 milioni. Che come secondo... Non è male. Però io vorrei un giovane. Un giovane. Un giovane. Un giovane. Ehm... Attaccanti. Abram 51 milioni che ce li ha. Sto pensando. Sto pensando. Scontento. Attaccanti. Modifica ricerca. Ecco. Ehm... Attacc... Dove sta attaccante? Che l'ho visto prima. Punta completa. Dai 15 ai... 19 anni. Almeno... 8. Non c'è nessuno. Siamo sempre Belotti comunque. C'è sempre Belotti. Ruben. Love to check. Però non ha una punta. Niente ragazzi. Allora. Ehm... Incarichi. 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 Giovane promessa. Rapporti 16. Ecco. Abbiamo i rapporti delle giovane promesse. C'è la punta. Giacomo Raspadori. Eh però... Però voglio un troppo. Voglio un troppo per Raspadori. Allora. Fai un'offerta. Di prestito. Durata... Durata... Fini della prossima stagione. No. Tisolare no. Giocatori... Vabbè. C'è anche così. Chi se ne frega. Punta centrale. Costo futuro. Opzionale. Facciamo... 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 Di 30 milioni. 120? La faccia lecca. Ehm... 60? Proviamo? Raspadori potrebbe essere interessante eh ragazzi. Parliamoci chiaro. Cagliari Fiorentina. Debutto di Boga. Che Boga secondo me ci darà tante tante soddisfazioni. Perché è un giocatore che io adoro anche nella realtà. E spero che possa essere il colpo ad effetto. Certo che un... Un Raspadori in prestito due anni con un diritto di riscatto. Potrebbe essere interessante. Sempre se poi abbiamo i soldi per riscattarlo. Perché insomma questi chiedono 120 milioni. E poi un po'. Oregano. Mamma mia che rischio. Si parte bene. Raga. Sono ventesimi questi in classifica. Sono ventesimi. Io non so. Cioè cosa vi devo dire. Sono ventesimi. Dai. Domanda di più. Ma che cavolo è? Con tutto il bene eh. Però. Però. Siamo quarti in classifica. Bisogna portarla a casa questa vittoria. No? Dai. Dai raga. Su. Odriozola. Torrera. Barco. 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 Bravi. Dai. Gonzales. E Blaovic la butta dentro. Grazie a un ottimo movimento di Barco. Bravo Barco. O Barco comunque si è subito messo in grande spolvero qui eh. Vabbè. Odriozola. Lancio meraviglioso. Portiere che non so dove vada. Però questo è un altro discorso. Allora. Bene così. Bene così. Anche se non era la partenza che volevo. Nel senso. 1 a 0 sì. Ma stiamo giocando un po' così così. Sinceramente. Però. Però rimettiamoci in carreggiata. Niente. Pavoletti. Pavoletti. Niente. Dobbiamo chiuderla il prima possibile questa partita. Perché. Sento puzza di trappola. Sento puzza di trappola. Sento puzza di trappola. Guarda. Guarda come la perdiamo questa partita. Già lo vedo. Già lo vedo io. Già lo vedo. Già lo vedo. Già lo vedo. Bravo. Milenkovic. Che. Che intervento meraviglioso. Quasi non ci credo. Siamo terzi al momento. Oh. 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 Ripartimi. Ripartimi. No. Ma perché? Ma perché? Ha buttato via un'occasione meravigliosa. Per poter. Diciamo non chiuderla. Ma quasi. E non si fa ragazzi. Non si fa. Biraghi. Boga. Niente. Boga un po' assente quest'oggi. Deve ancora entrare. Appena arrivato nel meccanismo della squadra. Appena arrivato. Lo posso comprendere. Lo posso comprendere. Però Boga. Subito. Biraghi. Biraghi. Oh. Boga si è fatto vedere anche lui alla fine. Si è fatto vedere. Go di Castrovilli. Buona azione della squadra. Lo diamola. Bene. Ci siamo un po' rifatti. Dopo l'inizio un po' incerto. Allora. Allora. 2-0. Castrovilli. È morto. Stecchito. Pulgar. Vai tu. Boga. È stanchissimo. Non so perché. Ce l'ha mandato stanco. Ma io preferisco sottile. Sinceramente. Preferisco sottile. Cioè. Anche il suo ruolo. Buonaventura invece. Incoraggia la squadra. Dai. Incoraggiamo. Poi sottile. Vedo che sta crescendo. Pian piano. Eh. Vabbè. Però. C'è. Rega. L'ho appena detto. Che sfortuna. Credito. Eh. Sta crescendo. E si spacca tutto. Beh. Che dire. È sempre una gioia. Queste cose. Mannaggia. È sempre una gioia. È sempre una gioia. Un cambio buttato nel cesso. Vabbè. Capita. Capita. Che devo di. Capita. D'altronde. Odritola. No. Jack. No. Jack. No. Jack. No. Jack. Lo spezia pareggia con l'Atalanta. Incredibile. Incredibile. Lo spezia che ferma l'Atalanta. Sarebbe un miracolo. Allora. Allora. Fermi tutti. Io farei debuttare. Danny Alves. Dove cavolo. No. No. D'altra parte. Non mi ricordo qual è il suo. Danny. Danny. Dai. Su. Poi. Mettiamo Igor. Ho finito i cambi. No. Ok. Però Gonzales non posso cambiarlo così. No. Ho finito i cambi. Gonzales. Te la fai tutta. Non so. Però. D'altronde. Vediamo sto questo. Daniel Alves. In che condizione si presenta. Il giovanotto. Ecco. Stava per fare una roba. Vabbè. Comunque. Che è? Gonzales. Sei un po' stanco. Gonzales per caso. Sei un po' stanco. Dimelo. Perché si vede. Figlio mio. Figlio mio. E vabbè. Rega. Però. Che gol ha fatto? Ma. Sto seter. Ma chi sei? Vabbè. Ha fatto un gol meraviglioso. Meraviglioso. Cioè. È veramente bello questo gol. Parliamoci chiaro. No. 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 Rega. Sbragalo. Sì. Però ragazzi. Stiamo dormendo. No. Vabbè. Non so. Posso fare. Non ce la posso fa. Non ce la posso fa. Non ce la posso fa. Ma come si fa? Ma dai. Ci hanno imbucato. Buttata nel patume. Buttata. Buttata. Completamente. Cavolo. Non si possono. Pareggiare queste partite. Con l'ultima in classifica. Sottile. 3-4 settimane. Vabbè. Taniaves. Debutta. Come è entrato. Abbiamo preso due gol. Sì. Però. Dai. Non. Non si può. Non si può. Non si può. Non si può fare sta roba. Non si può. Dovrebbe essere illegale. Dovrebbe essere illegale. Rispondi. Sì. La massima fiducia. Su Boga. Per me. Ripeto. Grande acquisto. Boga. Alla prossima. Beccano e Verona. Questa sarà più difficile. Secondo me. Sarà ancora più difficile. Amarabad. Minchia. 8-0. Hanno fatto il Marocco contro il Comore. Che squadra è il Comore? Oh. Ha fatto un'assist. In 8 gol. Bravo. A meno un gol potrei farlo. A meno un gol potrei farlo. Comunque questa delle mura lo vogliono tutti eh. Lo vogliono tutti. Sembra davvero tanta roba. Vediamo se riusciamo a... Ma allora. No no. Dobbiamo tenerlo questo eh. Dobbiamo tenerlo assolutamente ragazzi. Sassuola ha rifiutato. Allora. 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 Ehm. Facciamo. 80? No. 120? Oh. Ehm. Quello che volevi tu 120 eh. Biraghi hanno scelto. Tanto poi non lo riscattiamo per 120 milioni. Ci mancherebbe. Lo pago meno. E' difficile stare nel club però eh. Dalle mura. Eh. Questo cresce bene. Questo cresce bene. Saponare l'ha respinto eh. E' una prova al Genua. Vendi adesso? Ci becchiamo qualche soldo? Oh ma che devo fa? Che devo fa per... Vediamo quanto vogliamo durare. Io non ci credo. Non c'è soldi ora per pagarlo. Non c'è soldi. Non c'è soldi. Non c'è soldi. Quarta sta migliorando. Grande. Quarta. Oh. Tutti che cercano questo Christian. Allora. Se sono rifiutato. Eh. Raspadore. Io mi sono stancato eh. Fai qualcosa tu. Visto che sei interessato. Eh. Aggiungiti come obiettivo di mercato. No aspetta. Dica interessato. Raspa. Su. Adesso io abbasso un po'. A 60 milioni. Io lo faccio lo stesso d'offerta. Ora lo sto. Lo sto diciamo. Tattassando. Raspadore è molto contento. Però devi venire. C'è nel senso. È la nostra priorità. Raspadore. Sì sì. Facciamolo un po' ingolosire. Facciamolo un po' ingolosire. Su. Raspa. Ha capito che non vuoi però. Io che devo fare per convincerti a venire da me. Che sto a fa' i ponti d'oro. Sto a fa'. Niente. Non viene. Ascolta Raspa. Va bene così. Ciao. Mi è scocciato Raspa. Mi è scocciato. Tanto non c'ho modo di comprarti in questo momento. Non c'ho il modo. Non c'ho il modo. Tocci. Offri. Crustvi in prestito. Ok. Allora. 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 Volevo vedere un attimo se Bernardeschi ora. è pronto. Contata per ingaggio. Perché non vuoi venire? Accettabile. Niente. Non accettabile. Ti ho detto che sia una stella. Non accettabile. Stai da Juve che perde con la Samadona. Stai da Juve Bernard. Stai da Juve. Ciao. Comunque ragazzi. Noi direi che ci possiamo beccare per i prossimi episodi al momento. Vi ricordo il link in descrizione per supportare il canale. E niente. Ci becchiamo alla prossima. E comunque la squadra gira bene. Peccato per i Cagliari. Mannaggia. 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 Mannaggia.